Ben due candidature per la vita davanti a sé, titolo originale di The Life Ahead, film di Eduardo Ponti a Golden Globe, vandrà a gareggioare come miglior pellicola in lingua straniera per le musiche, mentre l'attesa nomination a Sophia Loren non è ancora arrivata da come si regge sul web. Laura Pausini invece vi ricordo che è candidata col brano Io si sin, Mank, il film di David Fincher sull'epoca d'oro di Hollywood, guida invece la nomination con ben sei candidature a battute di una nomination a un altro film Netflix, The Trial of the Chicago 7 di Sorkin. Bene, vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua, dunque la nomination per Laura Pausini, e scusa invece la breve bella e simpatica Sophia Loren. Ciao a tutti, D'Aleandro, narratore italiano.